Sarebbero tutti colpevoli e quindi tutti da condannare i 15 imputati presunti responsabili del crollo della palazzina di via Roma Barletta, nel quale il 3 ottobre 2011 morirono 4 operaie ed una ragazzina di 13 anni. Ieri il PM Giuseppe Maralfa, nel corso di una requisitoria durata più di 7 ore, ha chiesto al Tribunale di Trani condanne appene variabili tra i 3 e i 7 anni e mezzo di reclusione per tutti gli imputati accusati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose plurime. I periti avrebbero individuato la causa della tragedia nella demolizione di un edificio adiacente a quello crollato, dove furono abbattute anche le strutture comuni che reggevano entrambi gli edifici. Nel disastro morirono le operaie Tina Ceci, Giovanna Sardaro, Matilde Doronzo e Antonella Zaza, che stavano lavorando nel laboratorio al piano terra dell'edificio, e una ragazzina di 13 anni, Maria Cinquepalmi, figlia del proprietario del malificio. Le pene più alte sono state chieste per i tre fratelli Chiarulli, che effettuarono i lavori di demolizione. 7 anni e mezzo per Salvatore, legale rappresentante dell'impresa, 7 per Andrea Giovanni. 7 anni e mezzo anche per il maresciallo della polizia, Giovanni Andriolo. Su di lui pesano alcuni presunti falsi avvalorati, secondo il PM, dagli orari delle immagini di telecamere della zona, che smentirebbero le ricostruzioni del vigile. 7 anni per l'architetto Giovanni Paparella, ritenuto direttore dei lavori di bonifica dell'area. 5 anni e mezzo sono stati chiesti invece per Cosimo Giannini, proprietario del cantiere. 5 anni per Antonio Sica, incaricato della sorveglianza del cantiere. 4 anni e 6 mesi la richiesta di pena per l'ingegnere del comune di Barletta, Rosario Palmitessa. Per il funzionario comunale Valeria Valendino e per il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, Francesco Gianferrini, chieste 3 anni ed 8 mesi. 3 anni e mezzo ciascuno per Pier Fortunato Ceci e Vincenzo Zagaria, incaricati dalla Giannini SRL della progettazione e della sicurezza. 3 a testa per il vigile urbano, Alessandro Mancini e il geometra del comune, Roberto Mariano. Mentre per la Giannini SRL, la società proprietaria del cantiere adiacente al Palazzo Crollato, è stata chiesta una sanzione di 320 mila euro, oltre che la confisca dell'immobile. Il processo prosegue il 18 febbraio con le discussioni delle parti civili e a seguire con le difese che concluderanno le loro arringhe entro il 17 aprile.